I carabinieri della stazione di Torchiara, con il coordinamento della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Fabio Lagarello, unitamente alle guardie ambientali della NITA, sono intervenuti nel territorio comunale di Laureana Cilento a seguito della segnalazione di un attivista ambientale che aveva notato le acque del fiume Testene diventare bianco e grigiastre. Giunti sul posto, i militari con l'ausilio di droni hanno risalito il corso d'acqua, aggiungendo ad un'azienda di lavorazione pietre, così i militari hanno appurato che scarti di lavorazione industriale venivano sversati illegalmente nelle acque del fiume Testene, mettendo a serio rischio l'ecosistema, anche a valle, nel comune di Agropoli. Il titolare dell'azienda è stato deferito all'autorità giudiziaria per inquinamento ambientale e da tempo che si segnalano agli organi competenti fenomeni di questo genere che mettono a rischio l'ecosistema del fiume Testene, anche a valle, nel comune di Agropoli, dove da circa un anno si lavora per realizzare un parco fluviale e tutelare gli animali che vi abitano, come la lontra, che è un animale protetto perché a rischio estinzione e simbolo del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, avvistata più volte presso il fiume Testene. I militari sono dunque al lavoro per approfondire quanto segnalato da diversi cittadini.